Ieri sera Consiglio Comunale a Mascali. All'ordine del giorno un debito fuori bilancio, subito approvato dal civico consesso. E un secondo punto relativo ad una mozione proposta dai consiglieri di opposizione per interventi a tutela della sicurezza dei pedoni nella fruizione degli attraversamenti pedonali in alcune zone della città. Ma non sono stati questi due punti a fare decidere ai consiglieri di opposizione di abbandonare i lavori consigliari. Come precisa il consigliere di opposizione Carmelo Caltabbiano. L'ordine del giorno è relativo al fatto che l'opposizione ha scelto di abbandonare l'aula, si riferisce a motivazioni diverse. Noi riteniamo che a distanza di un anno dall'insediamento di questa consigliatura ci sia un eccessivo dilettantismo in quello che sono i rapporti interorganici al Comune di Mascali. Riteniamo, appunto sono state le parole che abbiamo voluto usare ieri sera, che il sistema di relazione tra gli organi del Comune di Mascali debba subire una sorta di messa a punto, perché pare che ci sia spesso un accavallamento di competenze tra i vari organi. E siccome noi riteniamo che a ognuno di noi appartiene una competenza, io nella fattispecie faccio il consigliere comunale e il consigliere comunale di opposizione, ritengo che il Presidente del Consiglio debba fare esclusivamente il Presidente del Consiglio, quindi nell'interesse del funzionamento del Consiglio Comunale, il Sindaco deve fare il Sindaco e deve avere il giusto sistema di relazioni con gli altri organi del Comune, il Segretario Comunale, la Dirigenza e quant'altro. Invece molto spesso ci capita di assistere a scelte da parte degli organi, di partecipare, non partecipare alle varie riunioni e noi riteniamo che questo vada per un attimo chiarito. Poi le relazioni possono continuare nel medesimo modo in cui stanno accadendo oggi. Noi riteniamo che non sia il modo giusto. Abbiamo scelto di abbandonare l'Aula, l'amministrazione, la maggioranza è rimasta in Aula, nonostante non avesse il numero legale, non è stato verificato il numero legale, hanno scelto di rimanere fino a quando poi è arrivato l'undicesimo consigliere e hanno scelto a quel punto di continuare il Consiglio. Tutto questo a noi non ci piace, noi avevamo scelto appunto di abbandonare l'Aula in una forma di protesta assolutamente pacifica, tant'è vero che le mie parole sono durate non più di penso di 30 secondi, dicendo appunto e richiedendo a tutti gli altri che ci debba essere questa sorta di messa a punto nelle relazioni interorganiche affinché il Comune di Mascale possa procedere nel migliore dei modi in quelle che sono le sue funzioni, sempre nell'interesse di Mascale e dei Mascalesi. Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Cardillo, fa una sua personale analisi della seduta di ieri. L'opposizione ha ritenuto di abbandonare i lavori prima ancora che si entrasse nel merito dei punti. Francamente io ho grandi difficoltà a comprendere le motivazioni che ogni volta spingono l'opposizione ad abbandonare l'Aula perché l'abbandonare i lavori di un'assemblea in democrazia è segnale di un fortissimo malessere che deriva da gravi motivi. Francamente a me non sembra che a Mascale ci siano stati questi gravi attentati alla democrazia o gravi attentati alle prerogative dell'opposizione che sono sempre state ampiamente tutelate. Non è stato dato ieri, così come è accaduto le altre volte, neanche il tempo di dare delle spiegazioni che loro era legittimo chiedere per dei punti che loro ritenevano di violazione, tra virgolette, delle loro prerogative. Io ho sentito dire al Consigliere Caltabbiano che la contestazione riguardava probabilmente un debito fuori bilancio inserito all'ordine del giorno e non altri e la convocazione ad urgenza del Consiglio Comunale per questo debito fuori bilancio. Se avessero avuto il buon tonno istituzionale di attendere le spiegazioni che sarebbero arrivate dal Segretario Comunale o dal Presidente del Consiglio, avrebbero potuto constatare che la convocazione ad urgenza c'era perché se entro un termine ben preciso, molto a breve, non fosse stato approvato questo debito fuori bilancio, l'Enda avrebbe potuto avere un problema di cassa, quindi delle responsabilità ulteriori. L'altro punto all'ordine del giorno era una mozione proposta dall'opposizione su una materia che riguardava attraversamenti pedonali e loro non hanno avuto neanche il buon senso istituzionale di attendere la messa ai voti di questa mozione che loro avevano proposto e non si capisce il motivo per cui noi dovevamo votarla nel momento in cui già, come ha spiegato il Sindaco, l'amministrazione si è adoperata per mettere in essere la nuova segnaletica orizzontale e verticale che i cittadini avranno già visto, dettata anche dal nuovo senso unico che c'è sul lungomare di Fondachello e che a cascata sta portando un rinnovamento della segnaletica orizzontale e verticale. Quindi è veramente una cosa molto triste ogni volta dover assistere a questa, direi, sceneggiata che mi sembra più una ricerca del cup de teatro televisivo più che un sostanziale vantaggio istituzionale, più che un sostanziale vantaggio per i cittadini.